Partecipate regine, c'è chi spera e chi inizia seriamente a preoccuparsi. L'ATAM, l'azienda del trasporto pubblico locale, ha ottenuto durante l'udienza alla tribunale fallimentare un rinvio di ben 4 mesi. La prossima udienza è stata fissata infatti il 17 giugno. Prima di tale data, l'azienda guidata dall'amministratore unico Nino Gatto dovrà chiudere definitivamente alcune pratiche, una su tutte, l'abbattimento dei debiti. Il risultato è che fino a questo momento è stato raggiunto al 40%. Poderosa dovrà essere l'azione dell'ATAM nei confronti dei creditori per arrivare a transazioni vantaggiose. Intanto l'ex amministratore dell'azienda, Vincenzo Filardo, sospeso da mesi dall'incarico, è stato ufficialmente licenziato. A determinare la rottura pare sia stato il rapporto della società di revisione che sta analizzando i bilanci dell'azienda. La SOGAS invece continua a rimanere in bilico. Oltre alla partita tutt'altro che definita con la provincia regionale di Messina, che nonostante il decreto ingiuntivo e il pignoramento di 400 mila euro non ha materialmente versato i fondi, la notizia sconcertante è che l'ENAC ha cambiato lo status che riguarda il tito Minniti. Sul sito dell'ente nazionale di aviazione civile, l'istruzione per la concessione trentennale a SOGAS è passata da incorso a sospesa. Un cambio che preoccupa e che contrasta con l'apertura dell'ENAC di qualche settimana fa. L'ente aveva riaperto la pratica chiedendo in un tempo definito di 45 giorni dei chiarimenti su alcuni documenti presentati dalla società di gestione. L'ultimatum scadrà ai primi di marzo, sullo scalo pende la minaccia di revoca della concessione parziale il 28 febbraio, francamente i conti non tornano.